Stai scegliendo un nuovo cellulare già che siamo qui? Forse, ma devo vedere con quale voglio fare dentro fuori della tasca ogni 30 secondi per i prossimi 6 anni. Che ne dici, Peter? Peter? Sto giocando con l'auricolare di un iPhone. Credo che prenderò questo. Il tizio ha detto che l'ultima versione è appena uscito. Ah, ottima scelta, Quagmire. Pronto? Oh, ciao, Quagmire. Che c'è? Peter, mi serve una mano col computer. Non trovo le mie foto. Hai guardato sotto foto? Che cos'è? Una cartella denominata foto. Ah, ma non ce l'ho. Ho solo 40 cartelle con su scritto nuova cartella. Ok, allora clicca sull'hard drive. Ok, la freccia sul monitor sono io, giusto? Sì, sì, quella sei tu. Allora adesso devi solo... Aspetta, questo coso ho la calcolatrice. Senti, Quagmire, cosa vuoi fare? Voglio solo mettere le foto del mio gatto su internet. Come faccio a farlo? Aspetta, è comparso un contratto di licenza. Fammi leggere cosa c'è scritto. Clica lì su accetto. Eh, scusa, mi sembra un po' avventato. Non trovi, Peter? Dobbiamo discutere ora. Sto guardando una cosa. Lo so, scusa, ma mi disturba che un altro metta su internet le foto del proprio gatto prima di me. Così io passerò per essere il secondo che ha messo le foto del suo gatto su internet. Quagmire, non so come dirtelo, ma ci sono già i gatti su internet. Aspetta, è comparsa una girandola colorata. Non risponde più. Ah, oh mio Dio, oh mio Dio, si è bloccato, si è bloccato tutto. Eh, Quagmire, calmati ora, si risolve. No, Peter, la gigio è cotto. Non riesce... Ah, ci venti, che diavolo? Eh, hai cliccato accetto. Posso essere d'aiuto? Questo dipende. Sai aggiustare pezzi di cerpame? Ma hai trovato in difficoltà? Ok, ho capito qual è il suo problema. Ho cercato di comprare una filpa online e devo essermi beccato un virus. No, il porno non è un problema. La cronologia del suo browser dice che è stato su kinky-latinas.net, ma quel sito ha un mucchio di malware. Oh! Personalmente raccomando, Latine al College. Insomma, voglio vedere le latine, ma che non parlino soltanto spagnolo. Sì, esatto! Wow, dunque, anche tu sei un appassionata di... Vorresti cenare con me? Con molto piacere. Mi scusi, ieri ho acquistato qui questo portatile, ma quando sono tornato a casa ho notato che qualcuno aveva già dato un morso alla mela. Ebbene sì, sono stata la prima donna ad andare in bici senza sellino. Ehi, favoloso, Sonia. E dove sei andata al college? Credo sì, Rechius, ma... non lo so, sono stata quattro anni con la faccia sul cuscino. Wow, non ti sei persa neanche una lezione? Glenn, sono così felice che tu mi abbia chiesto di uscire. Ogni volta che parlo di queste cose la gente mi guarda come fosse una disgustosa pervertita. Succede anche a me, ma che importa? Buongiorno. Ah, buongiorno. È stata una notte pazzesca. Sì, abbiamo... non mi ricordo in realtà, ma mi sento come se fossi rimasto a secco. Beh, anche se davi una certa affidabilità, io volevo prima essere sicura. Oh mio Dio, mi hai impasticcato! Sei arrabbiato? No, sono innamorato. Sonia, amore, aspetta qui, il tempo di andare in bagno. Aspetta, Glenn. Prendi questo bicchiere. Possiamo usarlo più tardi. Mio Dio, non sono mai stato così felice. Hai già deciso di dire addio al tuo stato di single? Quando lo capisci, lo capisci. Ok, ma fa attenzione, non affrettare una decisione importante. Prendo il menù cheeseburger. Vuole il menù cheeseburger extra large? Ehm... No, sì, no. Sicuro? Sono solo 30 centesimi in più? Sì. No. Grazie. Grazie.